Eccoci qui ragazzi, sono Goldrick, come vedete ragazzi oggi siamo qua in un nuovissimo LTS Questa LTS ragazzi è Parkour vs Banshee, le Banshee non le avevo ancora usate quindi bene così Allora comunque uno dei miei, si è già suicidato? Vabbè non so perché si sono già suicidati però andiamo già 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 dai 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 ok perfetto Qui bisognava andare sopra e ci andiamo subito sopra quindi vai 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 ok perfetto ok ci siamo Vai ragazzi andiamo vedo che gli altri non so cosa stiano facendo però stiamo assolutamente attenti Vai 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 ok ci siamo salvati non so come con un colpo di lag probabilmente Comunque, oh che fai? Chi è? Riso sa... Qui qua No l'ho mancato vabbè fa niente va Io ne approfitto per andarmene vai 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 intanto c'è anche un po' di lag ok qua Andiamo ragazzi andiamo vai via vai giù te Poverino allora aspettate Aspetta ok vai 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 Ok perfetto perfetto andiamo andiamo ragazzi andiamo vai che possiamo arrivare alle armi vai Ok fino a qua ci siamo sali sopra Dai 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 andiamo senza fermarci senza fermarci senza fermarci Ok e adesso sono siamo fottuti Eh lui non scende perfetto Oh oh ok oddio 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 vai 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 Sono stato in silenzio perché ero troppo agitato Ok perfetto No no non ci provare a cadere giù perché mamma mia vai 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 Ok perfetto andiamo andiamo facciamo l'anti cheat Se puntate qua così in teoria dovreste andare molto molto più veloci Allora vai prendiamo tutte le armi ok Cerchiamo di fare una kill raga così tipo Cerchiamo ma credo sia praticamente impossibile Quindi uno raga è un cittone ed è la E gli altri ok uno vedo che è la Dai 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 Vabbè a sto punto ci prendiamo l'idra e andiamo a farci le nostre kill Allora prendiamo questo E niente dai vediamo appena ne uccidiamo qualcuno Perché vedo che o sono nascosti o sono tutti scappati Ok ragazzi lì ce n'è uno Lì ce n'è uno Ok perfetto abbiamo ucciso l'abbiamo ucciso Allora qua non c'è nessuno No ok niente dai raga vediamo gli altri perché sono tutti mi sa Giù si sono giù si si o sono qua in parte Comunque vabbè dai andiamo a prenderli Ok ragazzi dovrebbero essere proprio qua Quindi aspettate Aspetta Eccoli eccoli mannaggia voi oh guardali come scappano Guardali come scappano guardali ok ti ho preso Ok ne abbiamo preso uno Adesso vediamo di prendere anche gli altri che sinceramente non so dove siano Ok ragazzi l'ho visto guardate dov'era Non ci posso credere Non ci posso credere lui stava facendo nascondino raga Mamma mia io non ci credo E niente dai round vincitore prossimo round Secondo round ed ora ragazzi abbiamo la nostra Banshee Quindi andiamo e cerchiamo di uccidere i nostri avversari Allora vediamo che da lì raga probabilmente si possono già prendere Ecco siamo andati tutti però Mannaggia a noi Vabbè continuiamo raga cerchiamo di andare a prenderli normalmente Che se cerchiamo di andare lì non li prenderemo più Quindi vai 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 Qua ce n'è uno No scusami Ecco l'ho buttato giù mi sa L'ho trollato? No è rimasto sopra No no l'ho trollato mi sa Boh raga non ci sto capendo niente Si è caduto adesso Allora cerchiamo di vedere dove sono gli avversari Ma sono più indietro c'è il presidente qua Grandissimo presidente Allora qua dobbiamo cercare di prendere il presidente Come sempre Allora vediamo Ecco perfetto Mi son trollato subito Allora io direi che se citiamo da qualche parte E' una buona cosa Però poi loro non si muovono più capito Quindi non saprei raga cosa fare Intanto probabilmente uno No non è stato preso Perfetto non ci posso credere L'ho preso No si è suicidato Non lo so se l'ho preso io O si è suicidato raga GTA Su queste cose non la capisco Comunque A questo punto Andiamocene A città No ma ancora riusciamo a cittare raga Mamma mia No 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 Sai dai 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 No no perché Mi ha spinto raga Niente Cioè niente raga Sono arrivati alle armi Quindi probabilmente Perderemo questo round Quindi vediamo subito Cosa succede I nostri compagni Sono stati uccisi Dunque round perdente Prossimo round Terzo round E stavolta siamo di nuovo i runners Quindi cerchiamo di arrivare alle armi Allora prendiamo la nostra pistoletta E qua si è buggato tutto Allora aspettiamo raga un attimo Ok Perfetto Allora cerchiamo subito di andare Raga Ok perfetto Allora loro sono lì Stanno cercando di andare Noi andiamo ora Andiamo ora Andiamo ora Ok Ehm Qua arriva qualcuno No Attenzione Ok perfetto Siamo saliti Allora qui stiamo subito attenti Che ci stanno un po' di persone Allora qua Qualcuno sta saltando Noi andiamo 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 Lì c'è Rissosabella Che sembra ferma No ma non è ferma Quindi boh Non so cosa stia facendo Allora qua Oh capriola capriola Benissima Benissima Non so che ho detto Ecco E qua siamo stati uccisi Niente ragazzi Rissosabella Da ferma Si è animata E ci ha ucciso Quindi ragazzi Vediamo subito cosa faranno I nostri compagni Ok ragazzi Il mio compagno è stato ucciso Round Perdente Prossimo round Quarto E probabilmente Ultimo round Ed ora ragazzi Abbiamo Le Banshee Quindi Cerchiamo subito Di andare Così Ecco Perfetto Non proprio così Allora Cerchiamo di Rimetterci a posto Dai 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 Boh raga Dai Ok Va bene Dai Allora Cerchiamo di andare Dobbiamo cercare Di uccidere qualcuno Anche se Non sarà semplice Qua C'è qualcuno L'ho preso No Sembrava Boh ha laggato Raga Sta laggando tutto Allora Vediamo gli altri Dove sono Ce n'è uno Raga che È avantissimo Di già E Oh No Non ci credo Non ci credo Mamma mia Chi è quello Avanti Rissosabella Ecco Rissosabella Raga sta già arrivando Alle armi Quindi Vediamo se Riusciamo a ucciderla O no Rissosabella Non sta ancora Andando Però c'è lui Va bene È lo stesso Dai Drimdow Boh Si chiama così L'abbiamo ucciso Raga Però i miei compagni Si sono presi Un bel te caldo Sono andati negli spogliatoi Proprio raga I miei compagni Vabbè dai Fa niente Raga Fa niente Credo che questo Questa partita Ormai sia perdente Vediamo di fare Un'altra kill Però Questo Laga Perfetto Ok Vai Vai L'abbiamo preso L'abbiamo colpito Mi sa No Manco l'abbiamo colpito Laga talmente tanto Che Non cade Nemmeno È invincibile Raga È fottutamente Invincibile E niente ragazzi Credo proprio Che avremo perso La partita Dopo questo Però Fa niente Dai Mi sono divertito Lo stesso È stato comunque Un buon LTS Siamo arrivati Una volta alle armi Non male Direi Non male Quindi qua Non si può cittare Niente ragazzi Questa partita Ormai È perdente E niente ragazzi Tutti i miei compagni Sono stati uccisi E io spero Che il video Vi sia piaciuto Partita perdente Purtroppo Comunque spero Che il video Vi sia piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi Se non vi siete ancora iscritti Noi ci vediamo Al prossimo video Bella